Dottoressa, purtroppo la grave crisi economica ha costretto tanti imprenditori a dover chiudere i battenti, per cui i propri dipendenti non potranno più avere il reddito che avevano un tempo, reddito e stipendio che ha permesso loro in passato di contrarre dei mutui, di avere dei mutui per il pagamento della casa. Sulla base della sua esperienza, cosa suggerisce di fare a queste persone che non riescono più a pagare le rate del proprio mutuo? Il tipo di soluzione molto dipende dal caso specifico, in quanto se la persona che ha difficoltà a pagare il mutuo è un cliente che ha sempre rispettato le scadenze, può recarsi in banca insieme ad un consulente professionista e richiedere un saldo stralcio o che comunque la banca rinegozi il credito che ha emesso. In questo caso si concorda per un allungamento della durata del mutuo in modo tale da ridurre la rata. Diverso è il caso in cui il cliente ha già ricevuto parecchie sollecitazioni da parte dell'istituto creditizio che ha emesso il credito e nei suoi confronti se non sono ancora partite delle procedure legali si può insieme ad un consulente professionista elaborare un piano di rientro in modo tale da ristrutturare il debito. Se invece ci sono già partite azioni giudiziali da parte della banca si può risolvere la questione con determinate procedure sia giudiziali che extra giudiziali. La cosa importante da capire è che anche se c'è un momento di crisi bisogna avere la volontà nel risanare il debito.